Sesto capitolo. Diana. Sono poche le cose che sono riuscita ad ammettere con me stessa. Il modo migliore per mentire agli altri è mentire a te stessa, prima di tutto. Così, quando dici una bugia, in realtà stai dicendo la tua assoluta verità. È più o meno così che affronto quasi tutti i dubbi della mia vita, sin da bambina. Non è la strada più facile, ma spesso è la meno dolorosa. In questo modo sei onesto con gli altri, solo che non lo sai con te. Avrei dovuto tenerlo bene a mente, ma a volte qualcosa in questo mio meccanismo si inceppa, lasciandomi sola a vagare tra le foreste di bugie che ho coltivato con le mie stesse mani. E nel momento in cui Luca è entrato in casa, così nervoso, incazzato e pronto a litigare con me, ecco che la mia piccola foresta è andata completamente in fiamme. «Che hai?» chiedo seduta al tavolo della cucina, davanti a uno yogurt appena aperto, pronto per essere mangiato. Il cucchiaino era ancora a mezz'aria quando Luca è entrato, mi ha visto e ha sbattuto la porta. «Mi magari mi sono dimenticata di cucinargli il pranzo, di mandargli un messaggio. Sono totalmente nel panico. Cosa ho fatto? Di che stai parlando?» chiedo, senza abbassare il cucchiaino pieno di yogurt bianco. Lui resta lontano, non si avvicina al tavolo. La sua espressione è sconvolta, sembra quasi che stia ricacciando le lacrime giù per la gola. «Ma che cavolo gli è preso? Vi ho viste. Cosa vuol dire? State insieme o cosa?» Sputa fuori tutto d'un fiato, prima di sigillare nuovamente la bocca. Spalanco gli occhi. «Ma a chi si riferisce? Ha visto me e Chiara passeggiare. Cosa ci faceva lì? E poi stavamo solo mangiando un panino. Magari si riferisce ad altro. Perché ha usato il femminile? Non sono lesbica!» Poi una lampadina mi si accende nella testa. «Hai visto me e Arianna insieme nel letto?» chiedo titubante, conoscendo già la risposta. Luca tira su con il naso, poi torna ad osservarmi e, avvilito, annuisce. «E credi che stiamo insieme per una cazzetta del genere? Non siamo lesbiche! Non sono lesbica!» Sto quasi urlando, in preda all'imbarazzo, all'ira, all'odio. «Odio per cosa? Non ne sono sicura, ma di certo non riesco a capire perché lui debba prendersela così tanto.» «E allora perché? Perché eravamo nello stesso cazzo di letto?» Lo interrompo. «Perché non riesco a dormire la notte e quindi ogni tanto mi metto vicino a lei sperando di avere meno paura di non so cosa. Di sicuro non c'è scopo, a volte nemmeno si accorge che dormo lì. La vera domanda è che cazzo di motivo hai tu per prendertela così tanto, eh? Che diritto hai?» Luca sembra aver perso la voce. Il senso di colpa gli si legge in faccia. Lo sa benissimo che non aveva motivo di prendersela. Ma probabilmente anche lui, come me, non sa spiegarsi perché è così incazzato. Mi dispiace. Non volevo arrabbiarmi tanto. Non capivo. Sbuffo. Le sue scuse mi hanno un po' accalmata, ma c'è ancora qualcosa che mi stringe forte lo stomaco e lo attorciglia. Come se potessi vomitare tutto lo yogurt da un momento all'altro. Cosa c'è da capire? Due ragazze che dormono nello stesso letto. E allora? Non vuol dire che stiamo insieme. Poi cosa vuol dire mi hai preso in giro?» Luca sembra a disagio ora. Cerca di evitare i miei occhi, quindi, come al solito, mi punta lo sguardo sul naso, sperando che non me ne accorga. Purtroppo per lui ormai conosco a memoria tutti i suoi trucchetti. Compreso questo. Pensavo a quando siamo stati insieme. «Se sei lesbica vuol dire che mi hai preso in giro». La rabbia sta svanendo, sta lasciando quasi il posto alla tenerezza. Non deve essere facile per lui. Ma la verità è che non lo è nemmeno per me. È stata importante anche per me la nostra storia, Luca, non solo per te. Non ti avrei mai preso in giro. Nonostante tutto, riesco a nascondere le mie emozioni con un tono freddo e distaccato, che fa quasi rabbrividire Luca. Lui annuisce e fa per andarsene. Io sollevo il mio cucchiaino di yogurt sperando di riuscire finalmente a gustarmi una merenda in santa pace. Mi dispiace. Pensavo solo che lei ci fosse riuscita, ma evidentemente la colpa non era la mia. Quello di Luca è quasi un sussurro, ma riesco a udirlo forte e chiaro. Spera di sdrammatizzare, senza sapere di avermi appena lanciato una bomba orologeria. Poi, dopo avermi salutato con un ceno del capo, esce dalla stanza lasciandomi sola in cucina. Il cucchiaino è pieno di yogurt. No, ormai non mi va più. Davvero si è incazzato tanto, ma è omofobo. Ovviamente non ho perso l'occasione di raccontare tutto a Chiara. Avevo bisogno di parlare con qualcuno, e Arianna è la persona meno indicata. Chissà cosa potrebbe pensare. Non credo. Il suo migliore amico in università è palesemente gay. Ce l'ha presentato settimana scorsa. Digito velocemente su WhatsApp. Dovrei studiare e finire di scrivere il mio documentario, ma dopo la discussione con Luca non riesco a concentrarmi. Allora, non è che è un gay represso? Chiara risponde sempre immediatamente. Questo messaggio mi fa ridere. È bello il suo modo di sdrammatizzare tutto. Vorrei esserne capace anche io. Ma va, ti pare. Rimorchia di continuo, ne porta a casa una diversa ogni sabato sera. Vabbè, ma tu questa cosa che dormi con Arianna non me l'hai mai detta. Non è che qui la gay repressa sei tu? Per poco non mi strozzo con la saliva. No, siamo amiche da nove anni, ma che cazzo vai a pensare? Poi non sono lesbica. Ehi, calma, non te la prendere, non ti sto mica insultando. Anche a me piacciono le ragazze, che male c'è. Spalanco gli occhi leggendo il suo messaggio. Cosa? Le piazzano le ragazze. E perché non me l'ha mai detto? Non si capiva? Non l'ho capito io? I miei battiti accelerano a dismisura. Davvero? Non mi hai mai detto niente? Sono bisessuale, ma tipo tutti in università. Davvero non l'hai notato? Io davo quasi per scontato che tu fossi lesbica quando ci siamo conosciute. Anzi, ne sono ancora convinta. Sono sotto shock. Non so cosa risponderle. Mi gira la testa. Perché mi sento così? Vabbè, dai. Ora vado a studiare. Ci vediamo domani. A domani, bella. La faccina con il bacio mi manda ancora più in subuglio. Ma che mi succede? Perché mi sento così? Sono lesbica davvero? No, no, non può essere. Sono stata con Luca. Siamo stati bene insieme. Però è finita. Sì, ma tra noi non andava. Ho dovuto chiudere. Cercavamo cose diverse. Lui cercava cose diverse. In quel preciso istante la porta si apre. Arianna entra, annunciando una cena. Nascondo immediatamente la chat di WhatsApp, come se lei potesse leggerla. Non ho assolutamente voglia di iniziare una nuova discussione anche con lei. Mentre mi alzo per andare a mangiare, mi rendo conto di aver seriamente bisogno di parlare con qualcuno. E perché è finita con lui? Stavate bene insieme da quello che mi racconti. Io e Chiara siamo sedute sul prato, in un parco poco distante dalla nostra università. Oggi c'era la consegna dei progetti, ma io non avevo completato il mio, quindi abbiamo deciso di non entrare. Forse anche per sentirci di nuovo un palliceali. Cercavamo cose diverse, rispondo, strappando un paio di fili d'erba. Non riesco a concentrarmi ultimamente. Ma cos'è, avete trent'anni? Lui voleva sposarsi e tu no, parla chiaro. Non vorrei rispondere. Mi mette in imbarazzo a parlare di queste cose. Ma so che, se non soddisfo la sua curiosità, lei potrebbe andare avanti tutto il giorno. Quindi, continuando a strappare fiorellini e fili d'erba, decido di accontentarla. Voleva venire a letto con me. Io no, quindi ci siamo lasciati. La risposta è secca, tagliente. Non lascia tempo, eppure la risata di Chiara sembra risvegliare in me qualcosa di non molto definito. Tutto qui. Non gliela volevi dare? Quanti anni avevate? Diciasette. Non ero pronta. Tu quando l'hai fatto la prima volta? Con una donna o con un uomo? Io, boh, che ne so, entrambi. Chiara sembra pensarci su. È davvero una domanda così difficile? Avevo quasi sedici anni, mi pare, con un ragazzo. Ho quasi paura di fare la domanda successiva, ma non riesco davvero a trattenermi. E con una donna? Ne avevo diciassette. Lei era bellissima. Mi ha fatto perdere la testa, e ho capito che mi piacevano anche le ragazze. La migliore scoperta della mia vita. E perché? Chiara fa spallucce e alza la testa, rivolgendo il viso verso il sole. È sempre bello scoprire cose nuove su se stessi. Poi, così, ho il doppio delle possibilità di scopare. Quanto è più divertente? Esplodiamo in una risata che per me è davvero liberatoria. Non è un argomento semplice da affrontare. Forse, prima di parlarne con Chiara, dovrei parlarne davvero con me stessa. Posso entrare? È tutto il pomeriggio che non riesco a smettere di pensare alla mia conversazione con Chiara. Cerco video su YouTube. Leggo i blog più famosi. Faccio avanti e indietro tra le stories di Instagram di gente che parla solo di… quello. Sono chiusa in camera mia, totalmente assorta e immersa nel display del cellulare. Migliaia di opinioni e di modi di pensare diversi scorrono davanti alla mia faccia a una velocità impressionante. Come fa una persona a riuscire a capire se stessa, se tutti parlano di questioni così delicate e in modo così veloce? Come faccio ad avere le idee chiare, se nei commenti tutti esprimono mille opinioni diverse? E mentre leggo l'ennesimo post su quanto sia importante riuscire ad accettare se stessi, non mi aspetto di certo che un Luca dispiaciuto possa bussare alla porta della mia camera da letto. Fa pure, rispondo con seddezza, chiudendo subito tutte le finestre sul mio cellulare e aprendo immediatamente le stories di un amico, per sviare l'attenzione. Luca entra e, senza chiedere il permesso, si siede all'estremità opposta del mio letto, il più lontano possibili da me. Dal canto mio, resto immobile, straiata di traverso la testa che penso laggiù e i capelli che sfiorano il pavimento. «Volevo chiederti scusa per ieri», sussurra lui, torcendosi le mani. «Resto a fissare il suo cellulare». «Era ora, scusi accettate». Cerco di mettere un po' di ironia nella mia risposta, ma la verità è che ce l'ho ancora con lui. Non per essersi arrabbiato, ma per quello che mi ha detto. «Non è facile stare qui, con voi due. Vivere con due donne è molto peggio di quello che mi aspettassi». Ridacchio. «È vivere con un uomo che è impossibile». Luca soddigna e sbuffa. Svircia le nostre fotografie appese al muro. «Sembra che veniate da un altro universo, dai. Vi capite solo tra voi». Sollevo la testa. Lui è perso nel vuoto. O forse sta ancora scrutando le nostre foto. «Non ti ho mai preso in giro. Lo sai, vero?» Luca continua a guardare lontano. «A volte no», risponde, per poi sospirare. Dopo qualche istante si gira verso di me con gli occhi lucidi. Però forse è meglio così. Agrotto la fronte e alzo un sopracciglio. «Cosa?» In quel momento entra Arianna, con il suo solito zelo, spalancando la porta e facendoci sobbalzare. Poi, quando ci vede, assume un'espressione interrogativa. «Che succede?» Ci scambiamo un'occhiata veloce, d'intesa. «Il Don Giovanni qui mi stava raccontando dell'ultima con cui è andato a letto. Una mora, se ti interessa, con due tette così». Viascico. Arianna non sembra convinta. «Ah sì?» Luca annuisce con veemenza. «Troppa veemenza». «Una fica pazzesca!» «Cena te ne parlo. Ora vado a studiare». E in un attimo sguscia fuori dalla stanza. Arianna resta a fissare il punto in cui è sparito Luca, poi si gira verso di me, che però decido saggiamente di ignorarla. Pochi secondi dopo si arrende e si dirige verso la sua scrivania, pronta a mettersi a studiare. Nella mia testa lampeggia la scritta «Scampato pericolo». Ma so benissimo anch'io che Arianna non è una che molla il colpo così facilmente. E sono sicura che sia io che Luca dovremmo stare molto attenti, perché la storia non finisce qui».